Una rete territoriale a Pescara che mette insieme forze dell'ordine, ASL, psicologi, avvocati per contrastare violenze e dipendenze. Uno sportello dedicato alle violenze in generale e alle dipendenze patologiche. Abbiamo riscontrato in base alla nostra esperienza, le esperienze dei nostri psicologi che sono collegate le due tematiche. Lo sportello, promosso dall'Associazione Codici, è volto a contrastare episodi di bullismo, cyberbullismo, revenge porn, tossicodipendenza, cyberdipendenza, ludopatia, violenza di genere, stalking. Molti di questi fenomeni sono drammaticamente aumentati nel corso della pandemia. Noi faremo da coordinamento, da filtro, distribuiremo in qualche modo tutte le persone, orienteremo più che distribuiremo, le persone verso tutto quello che c'è sul territorio. Dal 15 rosso della... di notte no, scusate perché c'è il 112, 113, vabbè. Però tutto quello che succede nell'arco delle 12 ore, che consideriamo, verranno tutti orientati verso i nostri psicologi, gli avvocati se servono, le forze dell'ordine, il pronto soccorso, i consultori, perché abbiamo i consultori, gli enti d'ambito territoriali, per cui tutti i servizi sociali. Noi abbiamo già creato questa rete, oggi sono qui, come vedete, e li ringrazio per farlo capire. L'Associazione Codici può essere contattata in orari di ufficio allo 085 77 211.